Questo programma è offerto da Tecnocampus Martedì 2 aprile, buongiorno da Teleprima benvenuti anche in questa mattina alla quotidiana Rassigna Stampa che come ogni giorno è offerta da Tecnocampus anche questa mattina tanti fatti in primo piano ovviamente si parlerà di Ocse ma si parlerà anche di sindache di Roma, di Torino di tentativi, di attentati, di bombe in esplose insomma tante notizie che questa mattina troviamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e cominciamo subito a sfogliare la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a vedere infatti l'apertura di questa mattina è proprio con lo scontro con l'Ocse sui conti l'organizzazione infatti boccia quota 100 e reddito e di maio intromissioni mentre Salvini dice creiamo lavoro e intanto Conte parla a Tria del caso Banche pressing per i rimborsi ai truffati Italia Debole anche per quota 100 l'Ocse infatti attacca il scontro con il governo italiano secondo l'organizzazione quota 100 rallenterà la crescita e far aumentare il debito pubblico critiche anche sul reddito di cittadinanza previsto un 2019 in recessione manovra sottostimata manifesterò il mio dissenso all'Ocse replica il premier Giuseppe Conte la riforma crea lavoro sottolinea il ministro Matteo Salvini dura anche la reazione dell'altro vice premier Luigi Di Maio facciano l'austerity a casa loro non alle intromissioni sui rimborsi ai truffati delle banche Conte invece fa pressing sul ministro Giovanni Tria e ancora continuiamo a vedere gli altri fatti e continuiamo sempre sul tema della politica in questo caso Vorace e gli Argeri questi sono gli scenari che ci vengono raccontati questa mattina nell'editoriale da Pare Bianco anche se un evento raro accade di tanto in tanto che in una democrazia in virtù di regolari elezioni il governo cade in mano a forze rivoluzionari propense a cambiare radicalmente i fondamentali alla collocazione internazionale del paese ai rapporti fra politica ed economia alle stesse regole del gioco costituzionali su cui si regge la democrazia rappresentativa insomma il governo del cambiamento insediatosi dopo le elezioni del 4 marzo 2018 a questa natura ma esso incontra nella sua azione le resistenze di figure istituzionali il cui compito consiste nel difendere quelle fondamentali e questo coloro che le incarnano sono stati scelti nella stagione politica precedente per quello scopo non per assecondare il desiderio dei rivoluzionari di governo di mandare a gambe all'aria il tavolo insomma un attacco critico appunto da questa prima pagina del quotidiano di Via Solferino ma ancora continuiamo a vedere ciò che fa polemica proprio nelle giornate che stiamo vivendo e infatti gli immigrati che spingono il boom di Malta lo vediamo nella parte destra della pagina infatti il doppio bleffo di Malta i migranti arrivano a Lampedusa sui barconi poi con un traghetto o un aereo raggiungono la valletta da turisti dall'aria Schengen il risultato migliaia non registrati impiegati nelle costruzioni ai limiti della schiavitù ed ancora busta esplosiva eccoci qua vediamo proprio cosa è accaduto alla sindaca di Torino busta esplosiva ad Appendino non ho paura dice pista anarchica la firma Scuola Diaz uno strappo e sarebbe esplosa ma la busta con polvere pirica fili e batterie indirizzate alla sindaca di Torino Chiara Appendino è stata intercettata Mittente Scuola Diaz firma che porta agli anarchici sociali e lei dice non mi intimidiscono e intanto continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano eccoci qua gli hacker che lavorano per IPM migliaia di foto e chat ecco l'archivio rubato in intercettazioni illegali sono quattro gli indagati nelle aziende che lavorano e lavoravano per IPM gli hacker avevano creato infatti un archivio riservato utilizzando un server e lì hanno scaricato migliaia di foto, video, conversazioni edizioni private ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina una fotonotizia che parla da sé l'Unione Civile e gli auguri della Ministra Trenta questo è avvenuto nella Marina Militare Lorella e Tenette di Vascello della Marina Militare Rosa Maria indossa la stessa divisa ed è un maresciallo si sono sposate con tanto di picchetto d'onore alla Spezia la loro è la prima Unione Civile in divisa che vede come protagonisti due soldati della Marina il posto di auguri della Ministra Elisabetta Trenta questo tutto in relazione a quanto avvenuto nei giorni scorsi e proprio all'indomani del convegno di Verona insomma la discussione è ancora aperta su quello che è famiglia e quello che non lo è e ancora l'assassino della felicità ieri è venuta alla luce questa macabra realtà secondo le dichiarazioni di quest'uomo che avrebbe ucciso un passante ma la ragione è ancora più inquietante di quanto si era in realtà sospettato dice era felice l'ho ucciso questa in sintesi proprio per rendere ancora più eloquente questa situazione e questa efferata vicenda ma ancora continuiamo a vedere anche di questa ne parleremo dopo con calma però intanto cominciamo a vedere ancora le altre pagine quotidiane nazionali vediamo il fatto quotidiano che cosa ci presenta oggi e vediamo infatti che si parte dall'alto il GIP Clementina Forleo boccia PM di Roma e ordine processo al generale del 7 come ai tempi dei furbetti del quartirino c'è un giudice a Berlino dice e ancora vediamo proprio nella parte alta della pagina tutta l'attenzione sulle due sindache grilline due sindache sotto attacco raggi, troppi incendi su rifiuti Roma assediata dalla criminalità e un pacco bomba all'appendino matrice anarchica poteva esplodere in intervista alla prima cittadinanza capitale i roghi sono quasi tutti nei municipi in cui vivono i clan Spada e Casa Monica sotto la mole attacco insurrezionalista legato al gruppo dell'ex asilo occupato e gli investigatori temono che sia solo il primo di una serie dopo infatti che i centri sociali sono stati esclusi appunto dalla vita di questa città e dopo la manifestazione che si è svolta proprio domenica e ancora vediamo le altre notizie in primo piano nella parte centrale dell'incontro Rai Lutazzi torna dopo 17 anni vede Frecciaro show in autunno l'attore satirico e purato dall'edito Bulgaro avrà un programma su Rai 2 e ancora vediamo Gonne d'acciaio un governo rosa e semiserio con Lavanoni e compagni e intanto il caso foreign fighter i cinque competenti anti-ISIS processati dall'Italia ingrata e nella parte bassa della pagina Berlusconi arruola pure Lady Rovazze Carina Bezenar nell'ufficio legislativo di Forza Italia e ancora vediamo le altre notizie in primo piano ci spostiamo proprio su altri quotidiani nazionali vediamo Libero dal Magna Magna al Bevi Bevi i politici si tuffano nel vino onorevoli e senatori litigano su ogni cosa ma non si hanno i bicchieri in mano l'unica legge firmata da tutti i partiti e per tutelare l'alcol nostrano dalla concorrenza francese e spagnola insomma un bicchiere ci renderà più uniti e ancora il reddito grillino Di Maio continua a eludersi non ha un soldo e intanto nella parte centrale della pagina parlamentari dem scatenate la parità per le donne PD è questione di poltrone e intanto assolte nel pello stiamo parlando della regressica innocente ma l'hanno incarcerata e nella parte destra della pagina vediamo le spese dello Stato Movimento 5 Stelle da quattrini alle banche li leva ai giornali e intanto arrivano 8.280 nuove auto blu e secondo questa testata Tiggino fa il finto tonto e nella parte bassa della pagina ero irritato dalla sua felicità ha ucciso un uomo perché lo invidiavo e ancora ogni 48 ore pensate un po' all'allarme che viene lanciato proprio da questa testata ogni 48 ore sparisce un bambino in Italia un dramma ancora troppo poco conosciuto una realtà che però si presenta sempre più evidente e ancora ci spostiamo su il tempo e vediamo proprio nella parte centrale il PIL dall'ultimato Malaraggi i presidenti di sette associazioni che rappresentano più di 400.000 imprese di Roma stufi di essere ignorati dal sindaco della città e preparano la marcia sul Campidoglio ma Virginia è sempre più nel pallone ora cerca sponsor per gli alberi dice appunto questo quotidiano e nella parte centrale della pagina reddito di cittadinanza stoppa le domande online finora oltre 800.000 richieste ed ancora conversione alcolica la nuova vita di Brunetta oggi è un deputato cosiddetto divino e nella parte bassa della pagina anche su questa testata governo allora insaputa compra un'auto blu ma fare l'appalto è la solita manina che non si sa di chi sia e ancora vediamo la Repubblica in primo piano Italia ritorno all'anno 2000 l'Ocse tenore di vita fermo a 19 anni fa abolire quota 100 di maio facciano austerity a casa loro e va all'assalto di Tria ma il titolare dell'economia si oppone alle richieste di spesa e ancora continuiamo a sfogliare questa prima pagina scendiamo proprio nella parte sinistra il governo di Lite continua e intanto le unghie del ministro sempre più polemica e nella parte bassa pacco bomba contro Appendino la polizia matrice anarchica l'ordigno poteva esplodere fortunatamente è stato intercettato e bloccato quindi non si è arrivati al peggio e intanto vediamo la caduta del sultano per quanto riguarda la Turchia Erdogan infatti perde Istanbul a care altre grandi città paga la crisi e il primo duro colpo alla sua presidenza e nella parte bassa della pagina ecco qua vediamo l'inchiesta anche la casa e l'auto ci spiano ecco come rubano le nostre vite ormai ci sentiamo sempre più sotto attacco sotto assalto e non ce ne rendiamo spesso non ce ne rendiamo conto ma nel momento in cui ci fermiamo un attimo e cominciamo a ragionarci vediamo che effettivamente tutto di noi è controllato computer, telefonini qualsiasi aggeggio marchigegno che comunque portiamo e che è all'avanguardia e ci permette di dare un segnale quello certifica effettivamente la nostra posizione nel mondo la nostra esistenza esattamente quello che stiamo facendo quando, dove, perché insomma veramente la situazione si presenta sempre più articolata ed ancora vediamo nella parte bassa sempre di questa pagina il diritto di Torino alla folia di uccidere per invidia della felicità insomma non so se si trattava di invidia della felicità però vediamo proprio in questa pagina della Repubblica l'omicidio di Torino e l'invidia della felicità l'assassino e la vittima due uomini di fronte e ha uno specchio beffardo e folle che riflette vite troppo distanti tra loro la dichiarazione rilasciata alle forze dell'ordine di Torino dall'assassino di Stefano Leo immediatamente dopo la sua consegna spontanea lascia sconcertati nessun movente se non la felicità di uno sconosciuto e a causa di questa felicità che la sua mano si è armata di un coltello ha sgozzato la sua vittima sconosciuta l'ho scelto tra tutti gli altri perché mi sembrava avesse una vita felice queste le poche parole con le quali l'uomo si è dichiarato colpevole il padre del ragazzo dice sì era un ragazzo solare sorridente conduceva la sua vita ma ovviamente dietro un sorriso c'è una vita infinita non è detto che la vita di chi sorride sia veramente differente da chi non riesce a fare un sorriso insomma c'è una potenzialità in più ma soprattutto queste sono le notizie che ci lasciano interdetti persi e soprattutto rammaricati per quanto in realtà questo mondo ci lasci sempre più l'amaro in bocca e ancora continuiamo a vedere le altre pagine dei quotidiani nazionali ci spostiamo adesso su Il Messaggero e vediamo che anche qui l'attenzione è posta tutta sull'Ocse quota 100 secondo l'Ocse infatti blocca la crescita il report sull'Italia economia in stallo a ripresa rallentato di maio basta con queste intromissioni pacchetto triano arrivo pressing movimento 5 stelle sul tesoro subito il decreto sui risparmiatori truffati ed ancora le verifiche IMS reddito controllati 28 milioni di cittadini su conti e patrimoni e intanto lo scandalo di riciclaggio caso Sweetbank prove censurate ora il governo ferma l'inchiesta e intanto 70 anni dopo lo scudonato e i compiti da rinegoziare e ancora nella parte sinistra della pagina l'errore strategico le pensioni elettorali che pesano veramente tanto sul futuro e vengono esaminate proprio in questa prima pagina di questo quotidiano che oggi esaminano proprio le pensioni che sembrano essere davvero questo elemento importante ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina e il leader grillino blocca le gare da 168 milioni i dubbi di Consip infornata di auto blu l'imbarazzo di movimento 5 stelle intanto vediamo la guerra tra cosche nelle strade di Roma due gambizzati al bar un blitz in pieno giorno nel quartiere di Cinecittà ferito il cugino di un boss vicino al clan senese e poi dopo la magliana il far west che nessuno ferma e nella parte bassa della pagina l'inchiesta a Napoli che continua i segreti dei PM in vendita su web indacati pensate un po' quattro periti e allora adesso io vi lascio con qualche momento di pubblicità ma non andate via perché ritorniamo subito dopo e vediamo ancora i fatti che ci arrivano dall'Italia in vendita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tecro Campus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex San Goben Caserta. Tecro Campus, la soluzione al centro. Grazie a tutti. Per quanto riguarda il calcio Napoli, da Ruiz a Verdi, chi sale e chi scende tra gli acquisti 2018. E il nuovo saggio, l'ultima sfida di Franzen. Salviamo quello che amiamo, dice. Ancora in apertura, anche qui si parla di crescita. Tria sotto assedio. Il ministro convocato da Conte, decreti pronti, i ritardi, colpa dell'eliti tra Lega e Movimento 5 Stelle. L'Ox critica il governo. Quota 100 e il reddito frenano l'Italia. Ora vanno cancellati. Tria, infatti, è sotto assedio sulla crescita. Il ministro dell'Economia è stato convocato dal premier Conte. Le misure in consiglio dei ministri. Intanto l'Ox boccia. Quota 100. Il report sull'Italia è impietoso. Economia ferma. La ripresa ha rallentato. Il quota 100 e il reddito frenano l'Italia. Ora vanno cancellanti. Contrattacca il vicepremier Di Maio. No a intromissioni. L'Iranche di Salvini. Mentre il premier Conte afferma. Le stime sono assolutamente sbagliate. Intanto ci spostiamo sul Regno Unito. Il voto. Ormai ci siamo. Brexit. Bocciati tutti i piani B. L'uscita senza rete ormai è un passo. E da Torino bussa esplosivo all'Appendino. La pista degli anarchici. Mentre vediamo il commento e il macigno delle pensioni elettoriali. Noi politici sappiamo bene come sia giusto fare. Solo che non sappiamo come farci rieleggere una volta che lo abbiamo fatto. Questa massima che è stata attribuita a seconda delle stagioni a Churchill, Kennedy e ultimamente perfino al Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker riacchiude una delle grandi e tristi verità relative alle scelte strategiche della politica. E ancora vediamoci. Spostiamo dalla politica ai focus del mattino. Dagli albatros alle tartarughe. le stragi della plastica. Insomma, veramente la plastica sta facendo più danni di qualsiasi altra cosa. È uno scempio che sta coinvolgendo i nostri mari e soprattutto gli animali che abitano questo regno infinito. E sembra sempre più difficile arginare questa situazione. Ma ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, nella prima pagina del mattino. Ed andiamo a vedere una polemica che nella scorsa settimana, al termine della scorsa settimana, ha infiammato qualsiasi cosa. Il matrimonio di Toni Colombo a Napoli e i rapporti con il primo cittadino. Nozze trash, caos, autorizzazioni, il sindaco nella bufera. Ed eccoci qua. Vediamo Toni De Magistris, la foto in comune, il concerto in campagna elettorale. Insomma, chi dice che non aveva i permessi, chi invece dice che le autorizzazioni c'erano. Insomma, un concerto in piena regola, un matrimonio che è stato attorneato da tante di quelle polemiche e che ancora non vedono sfumature verso la fine. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano. I dati delle procure finite nel cervellone Amazon negli USA. L'inchiesta a Napoli sul software spia Exodus. Due aziende sotto sequestro, quattro e gli indagati. E infatti parliamo di dati giudiziari trasferiti sul colosso internazionale Amazon. Invece di essere custoditi negli archivi di una procura, l'inchiesta napoletana sul software spia Exodus rischia di avere ricadute gravissime sulla vita ai centinaia di utenti, la cui dimensione privata ora è virtualmente nelle mani di chiunque abbia le chiavi di accesso dei codici giusti. Due aziende sotto sequestro e quattro gli indagati. E ancora sempre da Napoli, via Marina e Cantiere Eterno, già persi 2 milioni e mezzo di fondi europei. Ed infine vediamo sempre nella parte bassa lo scenario più innovazione. Solo così il sud inizia a crescere. E infatti l'anomalia meridionale che dura da tempo di un'economia che cresce poco e meno del resto d'Italia è un fatto noto e molto dibattuto. Tuttavia l'attenzione permanente da parte della nostra tradizione intellettuale alla questione meridionale come questione sempre irrisolta non ha portato finora ad assumere la perdita di peso e di rilevanza dell'industria come la causa principale dei mali del mezzogiorno. Infatti una volta si diceva che era l'inettitudine del popolo meridionale a determinare tutto ciò che di negativo c'era. Ora è acclarato che ovviamente questa inettitudine non fa parte di questo, chiamiamolo, popolo ma la realtà è che proprio mancano gli investimenti, manca la cultura, manca la civiltà, il rispetto e questo determina un regresso ed una retrocessione di una parte dell'Italia rispetto a quello che è il resto del nostro Stato. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, anche qui si parla dell'assassino del ragazzo sgozzato a Torino perché l'invidia di chi è felice può portare anche a uccidere. Come accade da quasi due mesi senza interruzione, la passeggiata che accompagna il corso del Po nel centro di Torino ieri era inondata di sole, di diverso c'era solo il fatto che i torinesi avevano ripreso a percorrere in massa il lungo fiume. Non accadeva dal 23 febbraio da quando c'è proprio lì il giovane Stefano Leo era stato aggredito e sgozzato. Una paura tenace, si era impadronita della città, la paura del killer psicopatico che uccide a caso la paura dell'assassino di cui ognuno di noi potrebbe essere la vittima. Da ieri da quando si è sparsa la notizia che quell'assassino si era costituito, il terrore è andato scemando. In questi casi si è solito dire che ora è colpevole a un nome e un cognome ed è così. Ma in queste righe quel nome e quel cognome non compariranno nessuno spazio alla vanità. E anche questo è quello che viene ovviamente posto risalto proprio da questa testata, anche perché spesso per avere un nome su una testata si fa qualsiasi cosa. Ecco, in questo caso si dà risalto alla pubblicità che probabilmente l'affermazione che ha fatto in relazione al sorriso della vittima non era reale. Ma anche questo è tutto da vedere perché comunque gli inquirenti stanno indagando anche e soprattutto sulla questione che riguarda proprio la vita dell'assassino, dell'uomo che comunque ha compiuto l'omicidio per il quale si è dichiarato appunto colpevole. Ancora vediamo nelle prime pagine quotidiane i fatti. Ci spostiamo ora sulla stampa, volevo uccidere un italiano felice. E ancora vediamo sempre in questa prima pagina, l'ho cacciato di casa dopo che ha preso a pugni il mio cane. Questo clima di odio finisce per alimentare anche i gesti di morte. Pacco esplosivo per l'Appendino, pista anattica, insomma. In questa prima pagina della stampa, tutta incentrata appunto su ciò che è avvenuto a Torino e che cosa accade? Accade che si parla tanto di violenza, quasi come se fosse l'unico elemento in primo piano e da porre il risalto proprio in questa giornata. Ma perché? Perché semplicemente la vita adesso sembra sempre più impergnata dalla violenza. Ed ancora Turchia, Erdogan perde anche Istanbul. vediamo un'immagine che parla da sé e intanto Conte mette in rigatria così danneggi il governo. Il ministro del tesoro convocato a Palazzo Chigi, l'insostenibile leggerezza del populismo, che mette a tacere anche questa situazione. Ed ancora ci spostiamo su un'altra testata, andiamo a vedere il manifesto. L'assalto finale dei grillini a Tria verso un DEF senza contenuto. Intanto l'Oxley demolisce quota 100 e prevede recessione meno 0,2%. E intanto nell'apertura vediamo una fotonotizia e ci spostiamo nella città della Turchia. Un tempo a culla dell'Islam politico di Erdogan si ribellano al voto amministrativo. Il presidente incassa la prima vera sconfitta elettorale in 17 anni, il partito HP perde Istanbul e la capitale Ankara. Zone kurde off-limits sugli osservatori e titola proprio così Schiaffo al Sultano. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo sulla parte economica, solo 24 ore, anche da qui l'allarme Oxe. L'Italia in stallo quota 100 va abrogata. La flat tax non è equa. Intanto cartelle sugli omessi versamenti, niente condono sull'elite pendenti. E intanto oggi il forum web sul reddito di cittadinanza. Intanto nella parte centrale della pagina il boomerang dell'eco bonus. Ancora una volta si parla di auto, ancora una volta si parla di immatricolazione, ancora una volta si parla di risparmi degli italiani. Forse ancora in questa situazione un po' sottovalutati. E i dati di marzo, scooter e moto sprint, più 27,1% delle consegne. E nella parte bassa della pagina Ferrero adesso punta sugli Stati Uniti con biscotti e snack Kellogg's. E intanto risparmio ancora boom, in arrivo altri 250 miliardi e le notizie che arrivano dal Salone di Milano. E ci spostiamo ancora su una pagina economica. Vediamo Italia oggi, Milano capitali, via la Kermes con convegni, eventi e firme e il toro di Messina in galleria. E nell'apertura forfettare i sostituti d'imposta. Nel decreto crescita sarà previsto l'obbligo di restituire all'erario le ritenute fiscali dei dipendenti relative ai primi mesi del 2019 e non ancora versate. Intanto Movimento 5 Stelle e Lega stanno starnazzando come i polli dell'onorevole Azzecca Garbugli. E la Merkel scherzava, ma Trump invece fa sul serio. E nella parte centrale, liti fiscali, scanatoria allargata, ricompresi anche gli avvisi di liquidazione frutto delle rettifiche di dati indicati in dichiarazione. Ed infine, nella parte bassa della pagina, una controtendenza. L'export delle regioni del sud cresce in percentuali più che al nord. E infine, i supermercati debbono fare informazione alimentare per i clienti. Insomma, non si possono più lasciare l'etica e test provviste di contenuti eloquenti, chiari e affidabili. Ed ancora, continuiamo a sfogliare le prime pagine quotidiane nazionali. Questa volta però ci dedichiamo alla parte sportiva col Corriere dello Sport. E nella parte alta si parla di Allegri senza squadra. La Juva Cagliari questa sera rinuncia a nove giocatori. Fuori è anche Manzuchic, Di Bala e Spinazzola, ma il tecnico apre su Ronaldo. Può tornare con l'Ajax. E in Milano Udinese, Gattuso si aggrappa al ribelle Chessi. E intanto, Piazza Pulita interroma all'orizzonte scelte drastiche. Spalletti ha chiuso il suo attacco in tv ai cardi, imbarazza Marotta che teme il depreciamento dell'attaccante. Il futuro è di conto. Intanto, Pallotta progetta un altro repulisti per Totti, un ruolo da direttore tecnico. Con Luide Rossi è la soluzione per la panchina. E infine, nella parte bassa della pagina, eccoci qua, Gavillucci, ora combatto per il futuro degli arbitri. L'intervista esclusiva al direttore di gara è esonerato dall'Aja. Ed infine il piccolo Schumi sale sulla rossa. 24 anni dopo il debutto di Michael, il figlio Mick prende il volante della Ferrari nei test in Bahrain. E ancora ci spostiamo su un'altra testata sportiva che è tutto sport e vediamo Leclerc spaccala a Ferrari. Clamoroso retroscena in Bahrain, il giovane pilota si è ribellato al box che voleva farlo restare alle spalle di Vettel. E l'ordine, tieni la posizione per un paio di giri? La risposta, sono io il più veloce. E intanto Ajax, io ci sono, esami ok, Ronaldo sicuro di recuperare per la gara d'andata dei quarti Champions ad Amsterdam. La società e i Allegri sono più prudenti. Stasera la Juve a Cagliari assenti anche Mandzukic, Di Bala, Spinazzola e Perino. E nella parte destra della pagina, Spalletti-Cardi, Tregua-Fragile, Genoa-Inter, con Maurito e Gattuso e il futuro, potevo stare zitto. Ed infine, Toro in Europa, da Rincon a Baselli sulla testa, noi ci crediamo. E con questo, credo, terminiamo anche questa prima parte della rassegna stampa. Ancora qualche momento di pubblicità e come sempre, non andate via, torniamo fra poco. Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus. Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta-Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo arrivati in studio, pronti per affrontare adesso le tematiche della regione Campania e vedere quelli che sono i fatti in primo piano e vediamo proprio le notizie. Ma partiamo proprio dalle notizie di cronaca, una vera notizia bomba che arriva da Torre del Greco. Voti comprati con 20 euro o un pacco dell'Unicef, coinvolti due consiglieri comunali. 14 misure cautelari nell'inchiesta sulla compravendita di voti nelle elezioni amministrative del 2018. E infatti si parla proprio di questo, di voti in cambio di denaro durante le elezioni amministrative del 2018, scambiati per somme, pensate un po' talmente esigue, da essere davvero impressionanti. 20 e 35 euro lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Torre del Greco che hanno dato esecuzione a 14 misure cautelari e messe dal GIP di Torre Annunziata a carico di altrettanti indagati, ritenuti responsabili a vario titolo e associazione per delinquere, finalizzata al voto di scambio elettorale, voto di scambio e attentati contro i diritti politici del cittadino, rivelazione e utilizzazione segreti di ufficio, favoreggiamento o detenzione, illegale di armi da sparo comuni e da guerra. E secondo quanto emerso dalle indagini coordinate della Procura di Torre Annunziata, un sodarizio criminale attivo a Torre del Greco in occasione delle elezioni amministrative del 2018, aveva conquistato voti in cambio di piccole somme di denaro di genere alimentario, promettendo posti di lavoro previsti da un progetto regionale. Insomma, una vicenda che ha dei retroscena inquietanti e soprattutto che mette in luce una situazione sempre più brutta. Ed ancora vediamo, si parla ancora una volta di cronaca, questa volta però legata alle assicurazioni, nell'ennesima stangata a Napoli, tariff record per i neopatentati. E' infatti in calo, ma non per tutti, le tariffe assicurative dell'RC Auto. Il premio medio pagato per i contratti stipulati o rinnovati nel quarto trimestre 2018 è stato infatti pari a 415 euro con il 50% degli assicurati, che paga meno di 372 euro e solo il 10% che paga meno di 235 euro. Ma questi premi, così come osserva l'Ivas, non sono per tutti. Infatti per i neopatentati le tariffe restano molto più alte. Il prezzo medio dei contratti stipulati dagli assicurati, con età inferiore a 25 anni, continua a essere particolarmente elevato a 740 euro, ossia 78% in più rispetto alla media nazionale. Ed è declinato in modo eterogeneo su base provinciale. A Napoli, infatti, gli under 25 pagano un premio pari a circa una volta e mezza quello medio della provincia, mentre a Bologna pagano quasi il doppio. E questa è una situazione che si ripresenta di volta in volta sempre più ardua, ma soprattutto per i giovani che hanno conquistato la patente e adesso si trovano a fare i conti proprio con l'assicurazione. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Cambiamo un po' il genere. Stefania Sandrelli, il mio film con De Notaris, sulla città post terremoto. Infatti, guarda, oggi c'è un po' di foschia, se no si vedeva Capri, che meraviglia. Il caffè è un altro. No, non lo prendo a Giadormia. Insomma, Stefania Sandrelli si rilassa nel suo albergo sul lungomare e parla un po' in napoletano. L'attrice è reduce da una giornata di riprese sul set, la tristezza e il sonno. Leggero tratto dal libro di Lorenzo Marrone, che farà un cammeo nel ruolo di se stesso, prodotto dalla Med di Luciano Stella e diretto da Marco Mario De Notaris. La diva nello sguardo sorridente, a 72 anni, dal volto a Renata. La madre democristiana di Henry, a 40 anni, spiantato e senza ambizioni. Henry andrà a vivere in una comune panca anni Ottanta, ricostruita in un palazzo del Settecento, in via Santa Lucia, appartenuta a Maria Clotilde di Borbone, dagli scenografi Renato Lori e Gilda Cerullo. È insomma una situazione che si presenta sempre più attuale, ossia i film che scelgono quale ambientazione, i registi dei film che scelgono quale ambientazione, proprio una città fantastica, meravigliosa, qual è Napoli. Infatti, sempre più, è il territorio campano che viene utilizzato proprio per girare le scene più importanti di tanti film. Insomma, la cultura passa anche da questo, e questo è il messaggio che vogliamo lanciare proprio da questa televisione, che comunque il nostro territorio ha tante bellezze, e queste bellezze vengono poste in risalto ogni volta che qualcosa di bello si aziona. Ed ancora vediamo le altre notizie, ancora una volta cronaca, intercettazioni degli italiani, secondo questa testata, avvenute per sbaglio, quattro indagati e due società sotto sequestro nell'inchiesta sul software spia. Il procuratore di Napoli Giovanni Medillo, complessa architettura sotto indagine. Infatti sono due le società sotto sequestro e quattro gli indagati. Il quadro dell'inchiesta della procura di Napoli sul software spia Exodus, l'ufficio diretto dal procuratore Melillo, ipotizza reati di introduzione abusiva di sistema informatico e violazione della privacy dei confronti dell'imprenditore calabrese Giuseppe Fasano, titolare di E-Serve, la società che ha progettato e sviluppato il software di Salvatore Ansani, digegente di E-Serve. Insomma, il procuratore Melillo parla in una nota di complessa attività di indagine finalizzata all'accertamento di gravi reati collegati alla gestione di software utilizzati per l'intercettazione di comunicazioni telematiche con captatore informatico. Insomma, un'inchiesta che svela retroscena importanti proprio su questa vicenda e soprattutto su un software che sembra rendere tutto troppo immediato. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Ci spostiamo sul mattino. Napoli, Girolamini, Senza Pace, Lite sul grande restauro. Dai libri ai cantieri, Girolamini sono Senza Pace. Oggi si delinea lo scontro istituzionale. Da una parte la direzione complesso, il polo museale della campagna, dall'altra la soprintendenza. Motivo del contendere gli interventi di restauro della biblioteca che sono in partenza anche se non si conosce ancora la data di inizio dei lavori e che potrebbero portare a una chiusura parziale o totale della preziosa struttura già tristemente al centro delle cronache. E ancora andiamo a vedere una notizia che arriva direttamente da Santa Maria Capo Avetere e che forse ci farà sorridere un po', ma che comunque dà una svolta a una vicenda che sembra ormai di dominio pubblico e soprattutto che sembra di ordinaria amministrazione. E infatti vediamo proprio il titolo che forse ai giorni nostri nel 2019 sembra alquanto arcaica. Eppure, bambini in gita, il telefonino resta a casa. Che cosa accadrà a questi genitori senza potersi collegare con i loro bambini? Che cosa accadrà ai bambini che si troveranno smarriti? E insomma, in gita senza cellulare la sperimentazione dell'Istituto Comprensivo Principe di Piemonte Perla di Santa Maria Capo Avetere fa da apripista e insegna la via quella delle relazioni umani. Dicono, vogliamo che i ragazzi socializzino tra loro, spiega appunto la preside Rosa Petrillo, desideriamo che stiano insieme e imparino a godere la bellezza delle cose che osservano e che sentano il piacere della conversazione e dell'osservazione. Per questo, in gita, niente cellulari e niente tablet. I ragazzi, come l'hanno presa? Devo dire che l'iniziativa è stata gradita magari prima di partire a loro sembrava impossibile resistere un po' di giorni senza telefonino ma alla fine si sono resi conto che si vive anche senza un'esperienza che sarà estesa subito a tutte le classi che partiranno anche nei prossimi giorni. Insomma, ciò che sembrava impossibile è stato recuperato e riportato in auge e sembra infatti che questi studenti adesso siano riusciti a stare insieme nonostante i telefonini anche perché ovviamente si ha una sorta di reciprocità se qualcuno porta il telefonino anche io lo voglio e di conseguenza si crea proprio quella situazione di mancanza di comunicazione che non deriva da un telefonino ma dall'incapacità di stare insieme. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Nozze Trash a Napoli dei magistri scontori Colombo in campagna elettorale vediamo proprio l'immagine che li ritrae insieme e vediamo il web non lascia scampo conserva tutto ogni traccia della nostra vita passata anche quelle che non ricordiamo più o che preferiremmo invece dimenticare sono datati 2016 due scatti scavati nei meandri della pagina Facebook del cantante Toni Colombo le nozze show con annesse polemiche non erano nemmeno state progettate il cantante sinestone i giorni della buffata multimediale pre-elettorale e arrivò nello studio del sindaco di Napoli i due si misero in posa abbracciati e sorridenti e quello scatto finì sui social del cantante che scrisse con emozione ho conosciuto quest'uomo lui si chiama Luigi De Magistris sindaco di Napoli città che mi ha reso famosa e il 26 maggio sarà con me sul palco del Palapartenope di Napoli insomma un annuncio di quelli che scuote un po' la città e ovviamente un'immagine che magari si pensava non fosse così eloquente ma invece oggi risulta essere quella che fa chiacchierare più di tutti e ancora ci spostiamo sulla testata Caserta News vediamo le notizie che arrivano dalla provincia di Caserta Casal di Principe Rolex Gioielli case ed una discoteca Schiavone svela il suo tesoro il figlio di Sandocan fa ai magistrati la lunga lista del suo patrimonio ed eccoci qua case terreni preziosi ed orologi di russo ed addirittura le quote di una discoteca d'Aversa Nicola Schiavone svela i magistrati della DDA i gioielli di famiglia facendo appunto luce sulle sue disponibilità patrimoniali e finanziarie dai verbali resi dal figlio di Sandocan divenuto collaboratore di giustizia nonostante numerosi parti omissati su cui si sta concentrando l'interesse degli investigatori dell'antimafia partenopea si riesce a ricostruire un quadro abbastanza chiaro delle proprietà di Schiavone dice sono titolare di due villette in Casal di Principe e sono proprietario di altre due villette sempre a Casal di Principe vicino alla rotonda in direzione Villa di Termo insomma veramente un quadro di quella che è la situazione economica di questo personaggio e che rappresenta appunto una situazione sempre più all'ordine del giorno e ancora vediamo le altre notizie in primo piano vediamo le notizie che ancora una volta arrivano da Caserta questa volta però da un altro quotidiano andiamo a vedere che cosa ci racconta in questa mattina Caserta prima pagina eccoci qua la nostra vita della seta che poi sarebbe in realtà una bella e propria iniziativa del comune di Caserta che si terrà il 6 aprile l'intesa tra Caserta e il ministero della cultura cinese l'iniziativa la nostra vita della seta si tratta di un seminario con la collaborazione del ministero e ancora vediamo le altre notizie in primo piano eccoci qua vediamo proprio su questa testata mure stroncato da un malore e accade proprio sotto casa era andato come ogni mattina a fare una passeggiata ma quando mancavano pochi metri al ritorno alla sua abitazione un malore lo ha stroncato insomma sono le vicende che capitano sempre più spesso al giorno d'oggi sembra quasi che non ci sia scampo ma probabilmente è la vita che ci conduce a questo e ancora vediamo beccati con i ferri del mestiere in tre nei guai sempre da Caserta prima pagina tre persone tutte già note alle forze dell'ordine sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri insomma anche in questo caso sembrava che si potesse scampare alla forza della polizia dei carabinieri nella fattispecie però la realtà è un'altra i controlli ci sono e questo fa sì che le persone vengano fermate arrestate ancora prima che possano compiere reati e ferati e anche per questa mattina la rassegna stampa termina qui ringrazio come sempre Tecno Campus che ci offre la possibilità di fare informazione farla in tempo reale a 360 gradi tra l'Italia e la regione Campania a voi un grazie per essere stati con noi e come sempre vi do appuntamento allo stesso orario domani sempre sulla stessa rete che Teleprima e mi raccomando continuate a seguire i nostri programmi buona giornata a tutti grazie a tutti questo programma è stato offerto da Tecno Campus grazie a tutti